Sono Marinelli Stremamugno e dediciamo il nostro spazio alla nuova carta dei operatori sanitariosi che ha stato presentato nella Santa Sede con la presenza del professor Antonio Joachino Españolo che è professore nella Università del Sacro Cuore qui in Roma. Professore, raccontate le novità che trae questa nuova carta. Le novità derivano da due elementi, dall'aspetto scientifico. In questi venti anni ci sono stati diversi elementi di novità legati alla ricerca biomedica e anche la novità nel campo della riflessione teologica del Magistero perché in qualche modo hanno proceduto parallelamente al progresso scientifico. Abbiamo diverse novità sia nell'ambito del generare, nell'ambito del vivere e nell'ambito del morire che sono le tre sezioni della carta. Nell'ambito del generare sono indicate una serie di novità connesse innanzitutto con la possibilità di chiarire meglio i criteri di fertilità e quindi le possibilità che dal punto di vista scientifico ed etico possono essere offerte per dare una risposta alla sofferenza della sterilità coniugale. In questo senso per esempio anche i metodi naturali non soltanto finalizzati a ritardare o a distanziare le gravidanze ma anche per stabilire dei momenti privilegiati perché ci possa essere la fecondazione. Poi il riferimento anche alle modalità e in questo senso viene ripreso quanto da tempo il Magistero aveva indicato le modalità per un aiuto che si può dare alla coppia e che è soprattutto quello di permettere e di facilitare l'incontro tra vociti e gli spermatozoi attraverso una inseminazione intrauterina dopo che appunto lo sperma è stato ottenuto nell'ambito di un rapporto coniugale in modo da mantenere salvaguardato questo aspetto della unità della coppia con la possibilità di fecondare. Nell'ambito del generare sono stati presi in considerazione alcuni elementi di novità per esempio è stata ribadita la questione della legittimità dell'uso di vaccini che in passato erano considerati dubbiosi dal punto di vista della morale tant'è che alcuni movimenti pro-life avevano ritenuto di sollevare obiezioni di coscienza e di non vaccinare i genitori, i propri figli per motivi morali e la Pontificia Accademia della Vita che ha elaborato un documento ha ribadito con molta chiarezza che questa difficoltà non doveva essere considerata tale perché c'è una distanza tra la produzione originaria dei vaccini e l'uso che viene fatto per cui la carta ha ripreso questa riflessione che è stata successiva alla riflessione precedente alla versione precedente della carta. Sul piano del morire è ribadita con molta forza la dignità delle fasi finali della vita in modo tale che in qualche modo la presenza al letto del paziente la consulenza di etica clinica quando devono essere prese delle decisioni nei confronti del paziente sia una consulenza personalizzata, non è sufficiente che vengano date delle direttive dal punto di vista delle leggi o dal punto di vista di regole pratiche ma ogni situazione è una situazione a sé stante e va valutata da tutte le persone che stanno attorno al paziente incluso anche il consulente etico per prendere delle decisioni in questo senso per esempio è stata ribadita la distanza che c'è tra la sedazione pagliativa che è uno dei mezzi che più vengono utilizzati per affrontare situazioni di sintomi refrattari cioè l'ultima istanza quella di togliere la coscienza del paziente quando altri farmaci non hanno potuto in qualche modo trovare un beneficio e la carta ribadisce la differenza che c'è tra la sedazione pagliativa, sedazione profonda e l'eutanasia sono obiettivi, mezzi, intenzioni che sono completamente diverse Usted menzionava qualcosa molto importante che è la volontà del paziente il paziente come protagonista dentro del Magisterio della Iglesia questo significa che se il paziente tiene intenzione o vuole non continuare la sua vita per la sua situazione di salute viene accettato? Che è lo che dice la carta in questo senso? E con la carta riprende questo aspetto della volontà del paziente nel Magisterio di Giovanni Paolo II la volontà del paziente, i desideri del paziente i legittimi desideri del paziente sono stati presi in considerazione, sono enfatizzati la relazione tra il medico e il paziente è una relazione tra persone per cui le volontà di queste due persone sono molto importanti e quindi il più possibile gli operatori sanitari devono tenere conto di quanto il paziente chiede circa la fase finale della propria vita tutto questo però non vuol dire, la carta lo ribadisce, che un operatore sanitario un medico debba fare tutto quello che il paziente chiede se parliamo di rispetto delle volontà, di rispetto delle autonomie del medico e del paziente anche l'autonomia del medico va salvaguardata quindi in qualche modo il medico prenderà le distanze dai richieste che potrebbero essere di natura eutanasica la questione però è capire bene che cosa sta chiedendo esattamente il paziente quando il paziente chiede di morire in realtà sta chiedendo di non essere lasciato solo sta chiedendo di non soffrire e queste sono ragioni che devono spingere i medici a preoccuparsi di lui, a farsi carico e quindi in qualche modo per arrivare ad una sintonia di orientamenti nelle decisioni della fase finale della vita ben, molto interessante quindi consultare questa nuova carta dei operatori sanitario che è una guia etica su come affrontare i problemi nel settore della salute secondo il Magisterio della Iglesia questo è Io Influio, desde Roma grazie a tutti grazie a tutti